benvenuti amici di innerstation per una nuova puntata di topolino magazine che passioni sono il vostro giorgi paolo e oggi andremo a vedere il numero 3434 di topolino magazine questa bellissima copertina tutta quanta luccicante metallizzata praticamente tutto il topolino è metallizzato veramente top se ce ne fossero sempre così di copertine sarebbe fantastico nel topolino andiamo anche a vedere subito che fatto la copertina il grande francesco di polito tante belle storie come sempre con una la principale che quella che che qui qui che da il volto la copertina a tema fantasy andiamo a vedere che aria tira a non tanto paperopoli ma un regno che è governato da sempre paperopoli ma un regno fantastico nipote vai nella terra di quacchellalla dove regna l'infido quassaguaxinort e combatti il terribile mostro di cattinvontor vabbè se qualcuno riesce a leggerlo lo fa sapere no aspetta cattivus no com'era cattin torbontà tertus nessuna fretta ne sa che fantasy altrimenti i mostri li avrebbero chiamati giro è vero paperino dice la verità comunque se qualcuno riesce a leggere correttamente i nomi me lo faccio sapere quindi partiamo subito con la storia principale lo scacciatore di mosti successo in esature di licia troise francesco artibani e disegni supervisione al colore di francesco di polito guardate che bella copertina prende ci sono tutti quanti personaggi di topolinea e paperopoli il regno di dactopia è governato da re paperopoli alentor questo regno fantastico un po come il signore degli anelli ecco il trono di spade stato molto preso da queste da queste saghe ed è governato sotto il buon governo della stella di archenon la pietra della prosperità quindi c'è questa pietra che dà prosperità e bisogna portarle rispetto ma il popolo inizia a essere indispettito perché ai confini del regno i mostri che stanno andando d'accordo negli ultimi decenni con il regno governato da paperopoli iniziano a impazzire e iniziano a creare problemi addirittura la sommossa popolare viene vista cappeggiata da paperino ma per ieri è stato solamente messo avanti perché ha imparentato appunto al nipote del re del regno allorché zio paperone crea questa spedizione composta dai tre nipotini di paperino e anche paperino qui è molto titubante perché essendo un fifone non vuole partire ma con anche l'amore verso paperina per non farsi vedere troppo fifone che chiamata ocarina chiamato qui nella storia si decide a partire ma sempre pensando che è una cavolata pazzesca quindi partono per l'avventura e infatti volevo dirvi che paperino è chiamato quacco baggins quindi qui si capisce veramente tutto da anche cosa è stata presa questa storia appena giunti ai confini del regno entrati nel bosco che è dominato da questi mostri fa la sua apparizione per sostenibile mostro che cerca di catturare quacco baggins chiamiamolo quacco baggins e mentre se la stanno vedendo brutta sentono le odi di questa voce che canta una canzone che intonna le geste le lodi un grande condottiero e questo è top per l'alta di tra di trivia che sarebbe topolino ed è un grande cacciatore più cacciatore è uno che difende il regno e le persone in modo pacifico dai mostri quindi non gli crea troppi problemi danni fisici e mi piace anche ricordarvi che qui qua qua sono chiamati flip flop e flap fantastico quindi la squadra si ingrandisce sempre di più viene sventato con benevolenza dandogli dei croccantini che va goloso questo mostro i ciccioli caramellati ecco e la squadra si amplia e qui abbiamo gofunculus che sarebbe pippo che è il canta storie quacco baggins flip flop e flap topolino e iniziano questa grandissima avventura per capire che i mostri si stanno alterando e poi andando avanti nella puntata faranno comparsa altri grandissimi personaggi poi abbiamo quindi voto per adesso voto 10 questa storia fantastica fantasy inerente a topolino al mondo disney stupenda bellissimi disegni tutto quanto compratelo questo topolino da solo per la copertina vale il prezzo da collezionista poi abbiamo episodio 2 scucci motore azione siamo serie associati sceneggiatura di sergio badino disegni di silvia zichè continuo l'avventura della nuova serie tv di paperone prodotto da paperone paperina e la sua socia iniziano a dispettirsi perché i due sceneggiatori scelti per creare la storyline la storia della nuova serie non stanno andando d'accordo e in preda a una crisi isterica paperina s'arrabbia e mette in buon accordo i due famosi sceneggiatori ormai in crisi jack e sally ormai sono in crisi di lavoro non lavorano più danni paperone vuole a tutti i costi un famoso regista del passato piano sequenza un famoso regista di film western che ricorda molto guardate anche voi o un sergio un sergio leone ma mi ricorda mi ricorda tantissimo sergio leone in questa barra molto poffuto lo vanno a trovare in villa e dopo vari internamenti lo riescono a convincere dato che lui non è un grandissimo estimatore delle serie tv le considero una schifezza quindi lui proprio per la pellicola tutti i suoi film durano più di due ore e trenta tre ore e mezza quattro ore e mezza sempre di più e mi sembra di ricordare un po infatti i vecchi spaghetti western di sergio leone con le canzoni mitiche e stupende di morricone lo convincono iniziano a fare i provini con grande difficoltà trovano i vari attori e incominciano le riprese con i due buffissimi attori che sono stati presi una artista di commedia introspettive da piccolo teatro veramente che non se la caga nessuno e poi abbiamo un attore da fotoromanzi da serie tv sempre con lo sguardo fisso e c'è una cosa che mi fa rida perché praticamente quest'attore questo sempre sorriso a mille denti bianchi in bocca sempre nella stessa posa ed è divertente notare che molte volte quando si legge la storia non si capisce se è la sagoma cartonata che lui mette quando si deve andare a riposare o è lui in persona carne e ossa ecco perché non c'è alcuna differenza quindi come andrà a finire la produzione di questo film vi dico già che il paperone molto indispettito e vuole che i tempi si velocizzano poi abbiamo l'altra puntata di paperbridge tutto fatto da marco gervasio continua ancora questa bellissima avventura che mi sta sempre di più piacendo rispetto addirittura la prima edizione che è uscita fuori l'anno scorso la prima parte i casi stanno sempre di più facendo molto ingarbugliati fame d'oro si sta scoprendo che è un furbacchione che non è un vero professore che solamente lì per cercare qualcosa che lui gli interessa qua chi sta cercando in tutti i modi anche straniandosi dal gruppo di amici che ormai sta legando anche fra tommy sossorelli tutti gli altri componenti un po più ricchi che non andavano d'accordo nei tempi precedenti si sta un po staccando per andare a capire che cosa c'è dietro al nuovo ritorno dei temibili mascherati scopre vari indizi storie passate di come si era formato il gruppo questo famoso tesoro che viene cercato appunto da fame d'oro e andando avanti il segreto di fame d'oro infatti si intitola si cercherà sempre di andare dentro a questo intrigo che mi sta letteralmente appassionando poi questi disegni lugubri nebbiosi perché questa storia viene ambientata nel in questo palazzo di baskerville un po come il mastino di baskerville di cielo con secco e tutta una storia di mistero di intrecci che veramente sta portando questa serie a grandi risultati poi abbiamo soggetto sceneggiatura di gabriele panini di geni maurizia mendola una breve storia che mi piacciono anche questo è topolino by night dove si vedono personaggi inerente a topolinea che non sono esterni o comparse nelle classiche episodi puntate settimanali poi abbiamo l'ultima storia paperoga papero impeccabile soggetto sceneggiatura di roberto del bove roberto gagnorra di geni di giampaolo soldati qui abbiamo un paperoga alle prese con zio paperone e all'arrivo di amelia quindi amelia ritorna in grande stile tenta e riesce con un sortileggio a personalizzare paperoga e a renderlo suo schiavo per introfolarsi una volta per tutte e rubare il la moneta di zio paperone che da tanto tempo vuole quindi riuscirà questa volta finalmente amelia rubare la moneta chi lo sa andiamo a vedere la prossima apertina la prossima settimana con il ritorno di paper dante zio paperone addirittura traghettato da dante in persona non si capisce c'è il fiume degli infari o un fiume di un'altra parte del mondo però mi sa che sia proprio quello degli infari zio paperone e il centunesimo canto fantastico fantastico e velocemente poi vi nel video che farò speciale nei prossimi giorni vi farò vedere che ho comprato il bellissimo libro cartonato di paper dante tante bellissime storie passate di inerenti al grandissimo poeta toscano italiano dante alighieri veramente stupendo con tante nozioni interessanti per divertirsi e leggere in un altro modo questa importantissima questa importantissima opera che ormai ci sta accompagnando da centinaia 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 d'anni quindi ragazzi vi auguro un buon weekend questo è il topolino numero 3433 e ci vediamo la prossima settimana ciao dal vostro giorgi paolo ciao amici in erstation ciao